La settima giornata di Serie B per il futsal Cesena è tutta da dimenticare. Col Bagnolo in trasferta matura una sconfitta nel turno del gruppo C col passivo di 6 reti a 2. Con una difesa piuttosto ben collaudata il vero problema dei Romagnoli è l'attacco poco prolifico. Infatti sono solo 17 le reti realizzate dai ragazzi del tecnico Fabrizio Mascarucci, il peggior score del raggruppamento. In queste due settimane di pausa per gli impegni delle nazionali i bianconeri dovranno far fronte a questo problema e porvi rimedio già nel match dell'8 dicembre contro la Poggi Bonsese. Ma è il risultato sicuramente, purtroppo loro sono stati più bravi e noi adesso ci dobbiamo mettere sotto. Abbiamo due settimane davanti prima della prossima partita, dobbiamo pensare solo a lavorare e poi a ritrovare un po' più di brillantezza che oggi non abbiamo dimostrato.